Dal comune di Pordenone arrivano agevolazioni fiscali sull'IMU per le attività commerciali. L'imposta per negozi e botteghe fuori da Ring verrà ridotta. Inoltre, i proprietari che abbassano l'affitto di almeno il 20% per tre mesi saranno rimborsati per il mancato introito. Le misure valgono per gli immobili occupati e non per quelli sfitti. Noi abbiamo deciso di diminuire complessivamente il carico tributario nei confronti dei cittadini, ovviamente concentrandoci su quelle categorie dei cittadini che hanno subito maggiori contraccolpi dall'emergenza. Penso quindi alle attività commerciali, imprenditoriali e artigianali. In questo caso, per quanto riguarda l'IMU, abbiamo deciso di diminuirla dall'885 al 76 anche per tutte le attività commerciali extra Ring. Avevamo già portato al 76 quello interno del Ring, ma anche di introdurre un bando che funzionerà dopo il 29 giugno e sarà molto agevole mettendo a disposizione 200.000 euro per quei proprietari di negozi occupati che decidono di diminuire del 20% almeno del 20% l'affitto e quindi dando un po' di respiro, un po' di ossigeno alle attività commerciali. Tutto questo ovviamente lo comunicheremo molto presto anche perché sarà necessario compilare una modulistica che sarà però, ripeto, estremamente semplice. I provvedimenti rientrano nel grande piano comunale da 3 milioni per aiutare famiglie e imprese a risollevarsi dopo la pandemia. Tra gli interventi, agevolazioni fiscali, sostegni economici per i punti verdi, fondi speciali per la scuola, il sociale e altre misure ancora.